Ah, carne fresca! Amanda Tripp! Sì, signorina Trinciabue. Cosa sono quelli? Quelle cose, signorina Trinciabue? Quei codini di maiale sulle orecchie. Sta parlando delle mie trecine? Sei un maiale, Amanda. No, signorina Trinciabue. Ho mai accettato maiali nella mia scuola? Ma mia mamma dice che sono carina così. La tua mamma è...